vediamo chi possiamo infettare oggi no questo no è a casa vediamo quest'altro no è a casa anche lui lì ce ne sono altri due no sono troppo distanti proviamo da quest'altra parte quest'altra c'ha la mascherina ma non le avevano finite le mascherine saranno arrivate nuove dalla cina ehi quello non ce l'ha stavolta non ci scappa è nostro ma c'ha la mucchina se continuano a combatterci così ci converrà a sparire a 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 Grazie a tutti.